È una legge che è stata stravolta varie volte in queste settimane, si arriverà a venerdì con una legge totalmente diversa, iniziata con una dotazione di 19 milioni di euro, adesso è arrivata a 53, ma sono state introdotte tante altre voci, dopo che le organizzazioni sindacali di categorie eccetera avevano sottolineato come questi fondi fossero largamente insufficienti. E anziché andare incontro a queste audizioni, che cosa fa la maggioranza? Toglie i codici Ateco e allarga a tutti quanti i soggetti, imprese e partite IVA, circa 80 mila in Abruzzo. È quindi facile fare un conto e capire che a fronte di 19 milioni di euro queste somme sono largamente insufficienti. C'era un'esigenza di liquidità, c'erano delle proposte anche del Partito Democratico che variavano tra i 200 e i 300 milioni di euro che non sono state tenute in considerazione. Su questo voglio fare alcune riflessioni. Gli asili, 360 mila euro previsti per loro, in realtà sono 316 gli asili, 0-6 anni, nella nostra regione, quindi largamente insufficienti. Insufficiente anche il fondo previsto per gli affitti degli studenti, sono circa 8 mila le famiglie che potrebbero attingere, solo un milione messo a disposizione a fronte di 500 euro per nucleo familiare, che quindi non troveranno assolutamente capienza in questo fondo. Stessa cosa dicasi per le zone rosse, che sono state tante nel dibattito pubblico, in realtà non entrano in questo progetto di legge. C'è solo un riferimento allorché si parla di un fondo, un milione di euro per le spese della sanificazione, della differenziata e per i blocchi stradali, per tutti i comuni della regione Abruzzo, quindi per i 306 comuni, solo un milione di euro, è solo una priorità che viene detta, ma non definita per quanto riguarda le zone rosse. Le zone rosse che sono invece rinviate ad una legge successiva, in cui c'è uno stanziamento di soli 200 mila euro per le piccole e micro imprese di queste zone. Invece noi crediamo che bisogna essere solidali con chi più ha sofferto, e quindi chiederemo che per un atteggiamento propositivo anche dell'opposizione le zone rosse vengano prese assolutamente in considerazione. Ci auguriamo che questi solleciti, queste proposte che vengono dall'opposizione in Consiglio regionale siano presi in adeguata considerazione dalla maggioranza.